Un fagottino in mezzo alla strada. Qualcuno l'ha lasciato lì, non lo voleva più. Doveva in qualche modo disfarsene. Ora quel fagottino si muove, si agita, piange, piange, piange accuratamente. Lo dovrebbero sentire, ma nessuno si avvicina. Si calma e poi riprende a piangere, piange, piange ancora. Il cielo si fa scuro, spuntano i primi colori luminosi delle stelle, ma le nuvole passano veloci, si addensano e poi piove, piove. Un vecchio sordo macilento con un sigaro sputacchiato in bocca sbuca dal fondo, procede lento, si incuriosisce, qualcosa, qualcosa si muove laggiù, sente anche un lamento, anzi un pianto. Si avvicina, si piega, lo raccoglie, lo scalda con le sue braccia. È tenero, infinitamente tenero, è affamato però. Di corsa a casa c'è Maria che lo aspetta, avrà preparato qualcosa per cena, darà da mangiare anche a lui, tutti e tre. Si faranno compagnia e la notte sarà più bella, più dolce, più calda. Il cagnolino si muove tranquillo, tutto è a posto. Lo aspetta una casa, una ciotola per mangiare e un uomo da seguire e da amare. Grazie.